Musica Benvenuti all'appuntamento con M. Sera, ospite con noi in questa puntata il Presidente del Consiglio Comunale di Macerata, Francesco Luciani. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Benvenuto, un'appuntata che iniziamo parlando del settantesimo per Macerata Civitas Maria e tanti gli appuntamenti in questi giorni religiosi e non solo che si sono conclusi proprio con il Consiglio Comunale straordinario dedicato a questo appuntamento ricordando la delibera del 1952. Beh, permettetemi di ringraziare nuovamente il Consiglio Comunale che ancora una volta ha dimostrato una grandissima sensibilità sui temi importanti. Titolo di città, 70 anni Civitas Maria e non potevo per un evento così importante non farci un Consiglio Comunale straordinario alla presenza di autorità, prefetto, il vescovo ed altri. Questo perché? Perché è la seconda delibera di Consiglio Comunale dopo 70 anni, la prima nel 1952 e la seconda nel 2022 quest'anno. Questo perché? Perché abbiamo voluto ricordare quello che era stato sancito da quella delibera dal 1952. Parto da quando nel 1925 fu tolta la Madonnina, quindi la figura della Madonna dal Palazzo Comunale. Nel 1947 ci fu una petizione popolare dove all'incirca 17.000 maceratesi chiesero di poter riapporre di nuovo la figura della Madonna sul Palazzo Comunale e nel 1952 finalmente si arrivò a ristabilire quello che c'era prima nel 1925. Questo perché? Perché post-guerra ovviamente le persone si volevano sentire protette e più protette sotto il nome di Maria non c'è un altro nome che racchiude tutta la grandezza che può esserci con il fatto dopo la guerra, di quello che era successo, la ricostruzione e quant'altro. E ha legato alla delibera un opuscolo che fecero nei 50 anni, quando festeggiano nei 50 anni, dove spiega tutta la storia. Ed era stata legata alla delibera in modo da far capire a tutti, perché tante persone magari non lo sanno, di come ci si è arrivati ed è perché è così importante ricordare Civitas Maria. Ci sono stati tanti momenti, tante tappe dunque che in questi 70 anni hanno accompagnato e evidenziato questa consacrazione, questa protezione della città di Macerata a Maria. In questi giorni vari momenti celebrativi, ricordiamo iniziati con l'Oratorio Sacro, poi un convegno teologico sempre a Palazzo Buonaccorsi, la mostra che sarà aperta fino a primavera, mossa sulla devozione a Maria nella Basilica e nel Museo della Mater Misericordia. E su questa scelta, tra le varie dichiarazioni, anche il Vescovo di Macerata, Marconi, ha detto 70 anni fa questa decisione popolare fu un bel segno di armonia e comune sentire della nostra gente, pur nel rispetto di storie e culture diverse. Vorrei soprattutto fare memoria di questo per continuare a cercare le vie che uniscono, aiutano a costruire la città. Quindi un significato non solo religioso, ma anche di tutta la città. No, civico e religioso insieme. Se mi posso permettere, nell'opuscoletto c'è, forse non tutti se lo ricordano, nel 1993 Papa Giovanni Paolo II venne a Macerata e scrisse due righe dove dice che che cosa vollero significare con quel gesto gli amministratori locali dell'epoca? Certamente essi vollero porre la città sotto la protezione della madre di Dio, Civitas Mariae. E tre parole sono quelle importanti, sobrietà, accoglienza e servizio. Ecco, questo è quello che è Macerata tutti i giorni, è sobria, è accogliente ed è al servizio di tutti. E quindi noi amministratori abbiamo fatto la stessa identica cosa. Abbiamo cercato di ridare a Macerata, con un Consiglio Comunale straordinario, la visibilità che Maria merita. Con queste parole di Giovanni Paolo II, che racchiudono tutto il senso di quello che abbiamo vissuto anche in questi giorni, in queste celebrazioni, cambiamo argomento e andiamo ad un altro tema. Questo 2022 è stato comunque un anno di grandi eventi per il Consiglio Comunale di Macerata, proposti anche da lei, a cominciare dal titolo di città. Bellissimo, quest'anno è stato un anno meraviglioso, ripeto ancora una volta, il 22 dicembre del 2021 il Presidente della Repubblica, Sergio Martarella, ha riconosciuto Macerata città. E quando partì la mia proposta, lei se lo ricorda, io veni da lei a fare l'intervista e un po' tutti scettici su questa cosa, dice ma come Macerata? Eppure serviva un piccolo atto, un grande atto del Consiglio Comunale per poi avere questo titolo. Ci abbiamo fatto il Consiglio Comunale straordinario il 29 aprile, che è stato qualcosa di meraviglioso, usciti da Palazzo Bonaccorsi, siamo andati tutti col gonfalone nella sala comunale a porre il titolo di città dentro la sala comunale e poi ci abbiamo fatto due giorni di festa. Ho voluto personalmente regalare a Macerata i due giorni di festa. Ovviamente ringrazio tutti gli sponsor che mi hanno aiutato per arrivare a questo. Ma 36 eventi, tre fanfare che hanno suonato a Macerata, carabinieri, polizia e aeronautica. Tutte le persone che hanno collaborato, quindi tutti i dipendenti comunali, li ringrazio ancora oggi perché è stato qualcosa di veramente meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. E lei mi sembra che lo ha visto. Sì, ne abbiamo seguito in diretta i vari momenti, le varie tappe per condividere con la città questo momento. Anche perché ho voluto io personalmente che voi foste presenti. Grazie quindi anche per questo momento. Guardando con l'istituzione di oggi, le scelte del passato ma anche il futuro, quindi anche questa novità di voler mettere al centro anche l'attenzione della città e i bambini e le bambine con questa novità, il consiglio comunale dei più piccoli e quindi Macerata, città dei bambini e delle bambine. Bella, questa è stata un'iniziativa che mi ha sottoposto l'assessore Cassetta. Quando l'ha sottoposto a me e al sindaco siamo rimasti entusiasti di questa cosa e quindi il 18 ci sarà proprio l'evento al Teatro Lavoro Rossi dove si costituirà il consiglio comunale dei bambini. Ma perché questo? Perché i bambini sono il futuro. Se i bambini già da adesso incominciano ad entrare all'interno delle istituzioni vuol dire che saranno, quando saranno più grandi, saranno capaci di essere ancora più civici, di capire che cosa significa, cos'è una macchina amministrativa, non è semplice. Per chi non ci fa parte, non è semplice. E poi i bambini certe volte hanno delle proposte che a noi grandi magari non vengono in mente perché loro sono talmente così genuini che magari ti dicono quelle cose che magari ti possono sistemare un qualcosa. Ancora prima dell'insediamento, dunque qualche anticipazione, che cosa si sente dire a questi piccoli, a questi giovani che si avvicinano alle istituzioni? Di rimanere sempre, 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 in questo caso bambini, perché? Perché sono piccoli. Però di riuscire a integrarsi tra di loro per cercare di portare a casa, io immagino, no? In una stanza 10-12 bambini che devono magari discutere su un qualcosa che discutiamo noi in Consiglio Comunale. Una qualsiasi stupidaggia, una strada, un marciapiede. Cioè vorrei immedesimarli loro quale sarebbero le loro risposte per cercare di portare all'attenzione nostra perché poi le loro domande vengono da noi, le proposte vengono da noi, quindi è una cosa carina, magari dicono qualcosa di loro, è questo, è bellissimo, è una cosa molto molto bella, molto bella. Quindi anche la... Ripeto, è un anno bellissimo, devo dire che per l'istituzione macerata è un anno bellissimo. Poi speriamo che la guerra finisca, speriamo che le persone riescono ad arrivare a fine mese, che si calmi erano le bollette della luce, del gas, tutto. Però se parlo a livello istituzionale di macerata, devo dire che è stato un anno bene. Un ritorno anche in presenza, il dibattito istituzionale. Lei lo sa che l'ho voluto obbligatoriamente perché è meglio dibattere in presenza che non attraverso un computer, dico io. Parlando anche di istituzioni, di scelte, di condivisioni sul territorio, di scelte amministrative, anche l'importanza dei consigli di quartiere e dunque le novità che stanno arrivando, il ripristino dei consigli di quartiere e delle loro importanti funzioni per anche le scelte sul territorio. Devo ringraziare il consigliere Blanasin che è stata una delibera sua personale portata in consiglio comunale e poi ha avuto l'approvazione. Perché questo? Perché abbiamo sentito l'esigenza di riavvicinarci di più ai cittadini. Di solito la politica un po' si distacca, ma perché? Per varie situazioni, perché il tempo è quello che è, perché le cose sono tante. In questo modo, ristituendo i consigli di quartiere, significa che ridiamo anche ai cittadini la possibilità di dire la loro all'interno dell'amministrazione comunale, perché tutte quelle istanze che vengono dai quartieri poi verranno portate all'interno dell'amministrazione e poi sviluppate. Ecco qual è il senso, cioè quello di rirendere di nuovo più vicini le istituzioni, ecco tutto qua, con i cittadini. Quindi su tutto il territorio, con i consigli di quartiere, anche per tutte le età con i bambini e i bambini, invece il bilancio un po' di questo anno con il consiglio comunale, quello vero, come è stato? Devo essere sincero, c'è sempre maggioranza e opposizione, però continuo a dire ancora che la maturità all'interno del consiglio comunale ci porta alla delibera di Civitas Mariae. Sta a significare che sì, le idee magari sono differenti, però laddove si riesce a compattare ne abbiamo approvate tante di ordini del giorno e di mozioni, maggioranza e opposizione, perché abbiamo trovato la strada comune. Era quello che avevo chiesto all'inizio quando mi insediai e dopo due anni io posso dire che è ancora così. Lasciamo perdere quello che magari non piace da un lato rispetto ad un altro, però io sono rimasto sempre istituzionale. Laddove riesco a convergere continuerò sempre a farlo, perché è per il bene della città, né il mio né dei consiglieri che partecipano al consiglio comunale. Dunque un bilancio di questo 2022 istituzionalmente parlando per il consiglio molto positivo e propositivo. Ho sempre detto che il consiglio comunale purtroppo dopo da alcuni anni alcuni atti non passano più in consiglio comunale, vengono fatti direttamente dalla giunta, perché è una legge regionale che ha cambiato un po' le regole. Il consiglio comunale se non gli diamo un po' di vigore serve solo più o meno per passare un po' di carte, per vedere, invece io gli ho voluto dare una forza in più, quella di fare delle delibere, quella di portarle a casa e di riuscire a dare quel senso istituzionale di consiglio comunale. Mi prendo questo merito. Grazie dunque per questa intervista, anche per queste anticipazioni al presidente del consiglio comunale di Macerata, Francesco Luciani. Grazie, saluto tutti i telespettatori e forza e viva Macerata. Grazie per averci seguito. Grazie a tutti i telespettatori e per averci seguito.